Terza corsa all'ippodromo delle Capannelle in pista a quattro anni, una prova riservata a femmine, non mi ci dici 12.000 euro in carriera, sono in nove al via all'uno Spina Duke, due Sorrise Nando, tre Serena Ritz, quattro Serenoia, cinque Sinfonia d'Amore, sei Simpatico Ok, sette Samsara, in seconda fila otto Superstaranza, nove Smorfiosa Spin. Macchina che accelera e lotta in partenza tra le due all'estremità dello schieramento, quindi Simpatico Ok e Samsara con Romolo Sani che cerca una millimetrica manovra per sistemarsi secondo in corda, scusate, dietro a Simpatico Ok che ha chiuso favorita, c'è stato l'errore di Sorrise Nando, terzo sistema Serena Ritz davanti al numero uno Spina Duke per linea esterne, Sinfonia d'Amore, ancora Superstaranz, hanno avuto problemi, Serenoia e anche Smorfiosa Spin si è ricongiunta con il gruppo, invece Sorrise Nando. Cavalli che procedono con Simpatico Ok che gestisce per il momento la situazione, andatura tutto sommato di comodo, 45.6 per i 600 iniziali, con Simpatico a condurre. Gradatamente all'esterno si migliora Sinfonia d'Amore che si trascina Superstaranz, lungo la corda sempre Samsara che precede Serena Ritz. Cavalli a 600 metri dalla conclusione, nulla muta tatticamente con Simpatico Ok che si limita a controllare per il momento Sinfonia d'Amore, poi Samsara per linea esterna e si migliora Superstaranz, adesso si è cambiato ritmo con Simpatico che prova a scrollarsi di corso, di dosso, Sinfonia d'Amore che però è ancora bella vitale al suo esterno, lungo la corda Samsara, poi Superstaranz, Cavalli che entra in retta d'arrivo con Simpatico Ok che cerca lo stacco, però deve vedersi ancora da Sinfonia d'Amore. Si unisce la lotta anche Superstaranz, ultimi metri con Superstaranz che scatta su Sinfonia d'Amore che è passata, Sinfonia leader ma viene attaccata da Superstaranz, si difende ancora Sinfonia sul traguardo, Sinfonia d'Amore porta a casa un successo veramente strameritato, partenza e arrivo di fuori scoperta salvandosi millemetricamente dal finish di Superstaranz. Andiamo a rivedere per il terzo posto, rivediamo gli ultimi metri con Sinfonia d'Amore, Mario Manzone in Sulchi, i colori della scuderia Stecca, il training da programma di Paolo Speziali in collaborazione con Franca Emanuele. Ecco qui gli ultimi metri con Sinfonia che si difende di un nulla nel finale da Superstaranz, facciamo lavorare il fotografo comunque sia, questa è solo la mia impressione, ricordiamolo, 5-8 ai primi due e poi facciamo scorrere le immagini, per il terzo dovrebbe essere ancora simpatica, ok, numero 6. È tutto per la terza corsa.